E poi questo te lo voglio proprio dire, col cuore in mano, da cugina, a cugina, tu meriti di meno. Sergio, ecco, io chiedo soltanto di essere accettata, di essere una mediocre, qui, ora, senza macchia, senza passato, senza futuro, qui e toccare il fondo e raschiarlo, raschiarlo, come una pantecana, sempre di più, sempre di più. Stare seduti è una delle cose più difficili da conquistare nella vita. Nessuno più vuol stare seduto e godersi il proprio cuscino di mediocrità. Tutti che vogliono stare in piedi, ispirati, illuminati, in preda ai loro attacchi di presunta genialità. Tutti con l'impulso di alzarsi. Chi? Chi sta seduto? Ma noi! È un lavoro di sottrazione. L'importante è che tu non senta niente. Ma hai sentito meno? Ancora meno allora. Solo così potrai godere. Qui la sedia con sopra me. Qui tu sopra la sedia. Qui la sedia con sopra me. Qui tu sopra la sedia. Qui la sedia con sopra me. Qui tu sopra la sedia. Qui la sedia con sopra me. Qui tu sopra la sedia. Qui la sedia con sopra me. Ti sei alzata! Solo per pochi secondi. Grazie a tutti